e questa sera siamo al Mai Mai di Luca per questa serata del DJ Tour 2019 siamo con il proprietario ovvero Martino Spera una grande serata di musica. Sì ciao Marizio, ciao gli amici del Concord benvenuti qua al Mai Mai per questa fantastica serata. Una serata di musica una musica che rimane nel cuore di tantissimi appassionati e sì 70-80 sono quello che colpiscono e non tramonteranno mai, mai appunto e qui al Mai Mai siamo felici di avervi qua stasera di fare una bellissima serata insieme e poter ballare dopo questo fantastico aperiscena qua al Mai Mai appunto Una serata da sold out come sempre nel vostro locale ma quali sono le serate apposite? Abbiamo molteplici serate dal mercoledì con cena fusion con sushi e quant'altro e giovedì con musica live una volta al mese il venerdì con gli amici di Moda Modè Rose Rose con la cena animata dove puoi ballare anche mentre mangi oggi e dopo musica discoteca, il sabato appunto con voi gli amici del Concord e infine la domenica la periscena Sunday Party con musica latinoamericana sempre gli amici di Moda Modè con la musica commerciale. È un pubblico molto grande possiamo dire molto elegante questo del Mai Mai. Sì noi puntiamo a un pubblico adulto, puntiamo a un pubblico che ha piacere di divertirsi, di stare bene con mangiando qualità, bevendo bene e poi ballando qui nelle nostre sale. Martino dove possono trovarvi? È molto semplice, basta andare sul nostro profilo Facebook o Instagram o chiamarci semplicemente al 05 83 49 0072. E allora è ora linea alla musica. Buona serata e buone feste a tutti. 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 Ci rivestiamo alla grande. Battiamo le mani tutte insieme? Su, su, su. Si devono sentire più le mani nella musica. Su. Che cari, che cari, che cari. Su, su. Buona serata e buone feste a tutti. 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 Buona serata e buone feste a tutti.